Sono rimasti incastrati tra le lamiere dell'auto ribaltata mentre le fiamme divampate subito dopo l'urto hanno completamente divorato il mezzo facendo diventare l'abitacolo una trappola mortale. Non hanno avuto scampo, sono morti carbonizzati sotto gli occhi di decine di automobilisti impietriti e impotenti di fronte ad una scena terribile. A perdere la vita Giuseppe Nobile, 75 anni di Favara, geometra in pensione, la compagna Calogera Stella pensionata di 70 anni originaria di Santa Caterina Villarmosa in provincia di Caltanissetta. La loro è stata una breve ma bella storia d'amore. Si erano conosciuti tre anni fa dopo il primo lockdown per il covid. Un tragico destino ha deciso di stroncare la vita ad entrambi. L'incidente stradale si è verificato lungo la statale 640 nel tratto che collega Grigento Corracalmuto in direzione Caltanissetta. I due pensionati viaggiavano su una Fiat Panda quando dall'altezza del bivio per Favara vi sarebbe stato un violentissimo tamponamento con una Audi A3 con a bordo il solo conducente. Dopo l'impatto la piccola utilitaria si è ribaltata più volte incendiandosi. Per gli occupanti non c'è stata nessuna possibilità di uscire da quell'inferno di fuoco. Quando la zona è stata raggiunta dai vigi e fuoco del comando provinciale di Agrigento e dalle ambulanze del 118 per i due commimenti non c'era più nulla da fare. I pompieri in pochissimi minuti hanno spento il rogo ma hanno soltanto potuto constatare gli avvenuti decessi. In stato di shock il conducente dell'Audi che ha riportato lievi ferite ed è stato medicato direttamente su posto. È stato già sentito dai militari dell'arma ma sul contenuto delle sue dichiarazioni non filtrano indischezioni. La Procura della Repubblica con il pubblico ministero di turno Gloria Andreoli e il procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Ad occuparsi delle indagini per competenza di territorio sono i carabinieri della compagnia di Agrigento e i loro colleghi della tenenza di Favara. Sono stati effettuati i rilievi e nulla è stato tralasciato a caso. Al vaglio la posizione dell'uomo alla guida dell'Audi devastata nella parte anteriore.